Buonasera signore e signori e benvenuti a Borderlands 2, si ricomincia oggi in 0301 14, allora, continuiamo... Oh, bene bene, siamo andati, non me lo fa, non me lo ricordo più, va bene. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Allora, un momento ragazzi, si, 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 ok, si, si, perfetto. Allora, un momento ragazzi, si, 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 Allora, questo dobbiamo cambiarlo, facciamo, ok, a. Allora, visualizza, abilità, con, a. Ok, qui, 0, accettoni, perfetto, la mappa, sento lì, prendi della pizza, per maxi, patizzoni, ti hanno indirgiato, proprio di corosibutanti, fuggiti da ora, qui. Ok, le spiaggiatri si nascondono, sono armati, portano, donati, eh. Va bene, ok. Dai! Ah, scatti. Ok. 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 Grazie a tutti. 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 Ah, happy week. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.